Buongiorno a tutti, in questo consiglio regionale abbiamo trattato il problema delle acque reflue, soprattutto per quanto riguarda il riutilizzo delle acque reflue in campo agricolo, un tema molto importante, infatti questo riutilizzo delle acque permetterebbe di utilizzare le acque reflue a scopi rigui, andando così a limitare le acque presenti nel sottosuolo e quelle delle falde in superficie. Ecco che il riutilizzo delle acque reflue ridurrebbe gli sprechi dell'acqua, infatti bisogna ricordare che in agricoltura le acque reflue depurate non avrebbero bisogno di applicazioni integrate di concime. Gli agricoltori avrebbero così un'altra opzione per l'approvvigionamento idrico, andando così a limitare, come ho detto prima, le acque di falda e quelle di superficie. In merito a queste considerazioni a livello europeo si è stato discusso a fondo e si è arrivati a un nuovo regolamento europeo, approvato lo scorso 25 maggio. Un regolamento che prevede, stabilisce le prescrizioni minime da applicare alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, ma soprattutto che parla del riutilizzo delle acque reflue a scopo agricolo. Ci auspichiamo che nel PTA, quindi nel piano di tutela delle acque in via di approvazione, questo tema venga preso in considerazione, quindi il riuso delle acque reflue per scopo agricolo. Quale seguito delle attività e delle iniziative che stiamo conducendo sul caro energia e sulla mancanza di materie prime, nel corso del Consiglio di ieri è stata approvata la mozione che abbiamo presentato con i colleghi di Purlo Autonomie e del gruppo misto, componente di Forza Italia. Una mozione che invita il governo regionale, ma direi tutto il Consiglio e tutte le sensibilità del Consiglio a farsi promotrici nelle sedi opportune, Parlamento italiano, Conferenza Stato-Regioni, qualsiasi sia la sette istituzionale possibile, a sostenere qualsiasi iniziativa finalizzata alla calmerizzazione, alla diminuzione del prezzo dell'energia, non soltanto carburanti e riscaldamento, ma in generale anche dell'energia elettrica e soprattutto anche a qualsiasi tipo di azione volta a contenere la mancanza di materie prime e quindi l'aumento dei prezzi. La mozione prevede anche un invito ai nostri rappresentanti, siano al Parlamento, di sostenere qualsiasi iniziativa. Non è importante il partito politico che la presenti, che le presenti, ma è il sostegno che va dato che si ripercuote direttamente sui cittadini e su tutta la comunità valdostana.